facciamo il giro vettura a questa splendida A4 Avant 4 S line 190 cavalli turbo diesel full optional, un fari matrix, cerchi da 18 chiapi Audi sport, macchine già gommate con 4 gomme nuove, macchine in condizioni eccellenti fare led anche posteriore, vetri oscurati, barre al tetto macchina veramente bella illuminazione interna, segni elettrici, battitato illuminato S line, volante piatto termine in ottima condizione virtual retro camera, sensori parcheggio davanti e dietro, climatizzatore automatico trizona, avviamento keyless, tutti i sistemi di sicurezza al massimo, vediamo qua tutto quello che ha l'auto, quindi tutto il pacchetto con riscontro ad attivo, vestimenti di stanza, tutti i sistemi di sicurezza, macchina veramente full incalibili ecco incalibili attività uvufer apriamo il motore frecce dinamiche prezzo dinamiche sembra nuovo l'auto insieme di grandine per qualsiasi altra info domande scriveteci chiamateci